Informazione cultura da diversi anni nel mondo della formazione specializzati nel TFA sostegno dove oltre 200 corsisti grazie ad importanti percorsi posti in essere hanno coronato il sogno di entrare a far parte del mondo della scuola diplomi perfezionamenti master certificazioni linguistiche tanto altro ancora affidati con estrema fiducia ad informazione cultura informazione cultura si trova in corso Umberto I attori annunziati fate in fretta vi aspettiamo